LA BARZELLETTA DI GEPPO C'è un tizio a casa col telefonino in mano, sta su Instagram A un certo punto vede una foto di una bella ragazza E subito gli scrive, ciao Sarò banale, ma sei bellissima Gli arriva immediatamente la risposta Cretino, so tu moglie Ah, sentiamo, ma non è che te puoi mettere sti filtri pure a casa La sveglia dei gladiatori